partiti in vantaggio sgricinus davanti a the russian soul ciclone da clodia muja libera bridge poseidon rayland e life dance dopo 400 metri di corsa è in vantaggio sgricinus davanti a the russian soul ciclone da clodia rayland muja libera bridge poseidon e life dance all'inizio della curva prosegue in vantaggio sgricinus davanti a rayland ciclone da clodia the russian soul muja libera bridge poseidon e life dance poco prima dell'ingresso in dirittura prosegue in vantaggio sgricinus davanti a ciclone da clodia rayland e bridge poseidon i cavalli entrano in dirittura con sgricinus in vantaggio lungo la corda davanti a ciclone da clodia bridge poseidon rayland muja libera per line interne life dance a centro pista in leggero vantaggio ciclone da clodia davanti a bridge poseidon life dance sgricinus passa bridge poseidon davanti a ciclone da clodia life dance e muja libera e in vantaggio bridge poseidon davanti a ciclone da clodia life dance resiste bridge poseidon davanti a ciclone da clodia life dance e sgricinus Grazie. Grazie.